La fotografia è un linguaggio visivo che è diventato centrale nella nostra vita. Oggi quasi tutti comunichiamo attraverso immagini che possiamo scattare anche attraverso un semplice smartphone. Eppure solo pochi conoscono davvero il linguaggio fotografico. Come trasformare le vostre foto in immagini migliori? Come diventare dei fotografi più consapevoli? Sono Massimo Siragusa, fotografo e giornalista pubblicista, collaboro con numerose riviste internazionali ed espongo in molti musei e gallerie. Sono il coordinatore del corso di fotografia e vi guiderò in un percorso formativo che vi permetterà di apprendere tutte le tecniche di base. Il corso, aperto ad amatori e fotografi principianti e accessibile di durata contenuta, offre una metodologia di apprendimento che mescola teoria e pratica. Ampio spazio sarà dedicato alla comunicazione visiva, al linguaggio fotografico, alle progettazioni e allo sviluppo delle idee, anche partendo dall'analisi del lavoro di alcuni tra i grandi protagonisti della fotografia contemporanea. Lo studio delle tecniche di base sarà messo in pratica tramite dei laboratori che si svolgono in parte negli spazi della didattica e in parte in location esterne in cui si approcciano diverse branche della materia, dal reportage al ritratto alla fotografia documentaria. A completare la formazione si affrontano le tecniche di editing e di postproduzione. Un percorso completo adatto sia a chi ha voglia di approfondire una passione, sia a chi della fotografia vuole fare una professione.